BELLA A TUTTI LA SUPERMILLA E siamo in Minecraft Come avete notato ho messo la sigla Oggi vorrei fare tanto il mio posto dell'arciere Con una cesta con le frecce all'archi E soprattutto vorrei salutare a Giuse, Matilde, Gaia, Lilia, Jennifer e Rossana Le mie amiche Quasi amiche Giuse Vorrei fare questa cosa Vorrei che li saluto Ciao Ok Eccola Ok ora possiamo giocare Ma dovrei fare un pochino di pietra pietro Allora prendere tutto Prendiamoci qua l'arco Ah eccolo Ok l'arco c'è E per andare Qua lo vorrei fare Aspetta Madonna Ehm ci vediamo dopo Vado a vedere cosa mi ha scritto E ciao Ora mi ha scritto che devo salutare pure gli altri due amici Cristiano e Alessandro E li saluto pure loro Ho saluto tutta la mia classe Ehm No ma ancora vedo il video E si Ok Ehm Che Ehm Che Come si è capito? Per questo è venuto Al piccone Piccone Ma queste due spade sono mie Si Li uniscono Speriamo che i livelli bastano Speriamo che i livelli bastano Con la frattezza ho una spada di ferro La chiamiamo di nuovo spada Spadina Di Ferro No No Ok Non ce la facciamo Dove la chiameremo spadino? Lo salutate Cristiano e Alessandro Scrivete nei commenti Guarda mi sono scordato E la base della chiamere la vorrei fare così Questo qua è già all'inizio Vai Mandiamo un attimo i miniere insieme Ma non è proprio i miniere Qua dove sta la pietra Tipo qua Mi serve un pochino di pietra Vedo un attimo quella di Rocky Speriamo che me la può pesteare Qua sopra ho messo tutte le sue cose In casa sua Qua Qua Se non me la puoi prestare Se non me la puoi prestare Te la vedo tutta Vado off camera e miniera E te la prendo tutta Se vuoi Se vuoi Se vuoi Qua 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 ok qua 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 ok no ma qua dico è meglio lasciare aperto attende non ci arrampicano soltanto i ragni ma attende non possono entrare ma se non chiudo sto vetro posso entrare facciamo tipo una basetta qua facciamo sempre così se sentite qualche voce da Pia o Franci una volta chiamate scrivete nei commenti ma è sempre lei è il mio braccio sinistro perché Rocky è il mio braccio destro e invece Franci braccio sinistro dai sficciati come la G ecco mi fico ora mi devo lanciare no io entro così questo qua lo chiudo qua qua i ragni da qua possono entrare e ci metterò delle porte qua e qua andiamo a dormire da sette minuti poi sentite altri rumori più vicini perché sono io che sto muovendo i piedi qui sulla scrivania e poi farò vedere pure la mia la mia cameretta un video della mia cameretta poi se ci avanza tempo dobbiamo fare un'altra cosetta che servirà molto per la notte che sarà molto comodo però dobbiamo mettere la la dorte sopra la stetta con la dorte ok abbiamo finito prendiamo delle torce cinque cinque se ne abbiamo due giusto giusto questo questo se vogliamo uscire dobbiamo uscire sul tetto dobbiamo uscire ciò qua si faranno mettere gli zombie che sto facendo? la fortezza qua ho fatto la fortezza mi sono fatto la fortezza yeah casa dei pepi da qua posso vedere pure il 9 poi da qua ho migliorato casa ma dovrei dire migliorato casa uno, due perché i ragni non possono spaccare le porte sono che cosa sono super ragni che hanno le mani di ferro qua la torcia per illuminare tutto qua le due plescio abbiamo fatto tipo un altro piano ma i due piatti ma i due piatti non servono perché è gigante casa nostra nostra pure vostra qua dietro sta questa cosa non l'ho notata che l'ho fatta io non l'ho notata ok dai certo c'è tempo prendiamo la pala ok di terra ce ne abbiamo ad acqua ad acqua dobbiamo comparire ok ok vediamo che cosa che cosa io che cosa dobbiamo fare allora se quello dove sta qua sotto ok 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 il passaggio segreto sta qua sotto ok sta qua sotto qua 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 fino a qua qua dove stanno da qua da dove si entra a casa e allora sigilliamo stacca qua non si serve cambiamo strada facciamo andare da questa parte e da qua che andrà in casa la strada la strada la traccia tutta lì così quindi scavo la testa e posso arrivare finita con la figura così la notte non dobbiamo più farlo uscire per avere tutte altre parti ma se dirò che sarà difficile fare il fatto lo sapete perché forse non si può fare la ruota ok vai 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 ok ora non ci sta niente vediamo ok dobbiamo andare da questa porta questa porta tappiamola vai 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 e non ci vedo un cacchio spero che non si spawna nessuno prendiamo le torce di anni ce ne abbiamo con tutta scala ogni scala 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 le scala servono nel mio progetto uno due tre ok mentre qua tappiamo che non serve ma niente veramente veramente devo farlo salire di uno qua ok dove stanno le torce ok mettiamo 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 e qua sotto e qua sotto stiamo sotto casa e qua sotto stiamo sotto casa da qua non possiamo spawnare perché da qua dobbiamo andare come ho fatto ecco dai spacco questo perché metti qua la scala e qua perché non lo metto però comunque posso salire mettiamo il blocco come stava apri perchè non lo va a mettere qua il blocco bu non fa niente allora per questo video oggi è tutto lasciate un bel like iscriverci per la vostra puntata bella ragazzi